Ciao, io sono Carmen, la cantante degli Sviro Gravity e ci siamo formati... No, aspetta che devo pensare a quanto ci siamo formati, così era il 2010? Sì, quattro anni fa, sì. Sono in questo gruppo da diversi mesi, io personalmente sono da 13 anni, questo progetto Zero Gravity mi piace molto, mi trovo molto in armonia e in sintonia con loro. Ok, ci siamo formati quattro anni fa, aprile era, e però diciamo che dalla formazione precedente siamo rimasti solo in due, io e il chitarrista, quindi tutti quelli che vedrete in questo video sono più o meno nuovi. Ciao a tutti, sono Marco, sono insieme a Carmen, il cofondatore del gruppo, suoniamo insieme da oramai quattro anni, ci siamo sempre trovati bene anche nelle difficoltà, abbiamo comunque tenuto duro, abbiamo creduto nel progetto Zero Gravity e questo qui è il nostro CD, io sono molto fiero del nostro CD e mi piace molto il lavoro che abbiamo fatto e sono veramente soddisfatto, vi ringrazio e spero che piaccia anche a voi il CD. Noi facciamo canzoni che variano dal rock all'hard rock, diciamo che non c'è un genere definito, quindi ogni canzone ha del suo e il nostro CD si compone di sette canzoni, di cui sei li abbiamo scritte noi e una invece è una cover di Katie Perry, però molto rivisitata, forse è anche quella un po' più pesante tra tutte. Da autodidatta, diciamo, sono arrivato fino a questo punto e adesso di suonare non riesco più a smettere. Ciao, sono Edoardo, sono nella band da circa un anno, pur ascoltando generi molto differenti dal nostro, mi sono sempre subito trovato in armonia con il resto del gruppo, una sorta di pop rock molto aggressivo. Il primo componente che abbiamo cambiato è stato il batterista, perché inizialmente era mio fratello, però per problemi di lavoro è entrato Edo, che inizialmente doveva essere solo temporaneo, ma poi è diventato fisso. Poi abbiamo cambiato il bassista, che l'altro ci ha lasciato perché aveva altre passioni, quelle della fotografia, a girare video, ma c'è una mosca, e poi invece abbiamo cambiato l'altro chitarrista, perché anche lui aveva problemi con lo studio, insomma fa l'università, studia matematica, era molto incasinato e quindi sono entrati Dennis e Ricky. Beh, poi diciamo che sì, ho imparato a suonare sia autodidatta che anche con diversi maestri, con amici anche, e basta. Spero che questo disco venga fuori al meglio, e spero che piaccia più gente possibile. Allora io sono Dennis, suono il basso con gli Zero Gravity da un anno praticamente, sono un bel gruppo, mi trovo bene, sono tutti ragazzi simpatici. Adesso fare questo album, questo demo, è una bella esperienza, spero che venga fuori un bel lavoro, ci stiamo impegnando molto tutti, e niente, sono contento, e spero che piaccia anche alla gente che verrà a ascoltarci in concerto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.